ok ragazzi finalmente ormai sono andata a vivere con la bulla e beh ragazzi abbiamo adottato anche in avanti abbiamo adottato anche una bella una bella donna ok in teoria ma ragazzi ma che giulia grazie c'è giulia laggiù appunto c'è testa d'arancia ciao giulia ciao giulia bene bene guarda guarda giulia abbiamo adottato una bella figlioletta vieni a prenderti un caffè ma te scusa bulla bulla ma te non avevi non odiavi giulia ah si chiama giulia si chiama testa d'arancia vabbè 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 guardate comunque ragazzi noi ragazzi comunque siamo diventati ricchi abbiamo preso una mega villa c'è testa d'arancia dove mi porti oh ma figlioletta non parlare tanto no non ti dicono queste parole va bene intanto intanto io devo andare a parlare con la bulla cioè con la mamma piccola vuoi giocare ok vieni vieni comunque ma quindi ma te che vuoi fare la cosa vuoi giocare alle winks alle patine aspetta un attimo state zitte state zitte io devo parlare oh ok allora ok comunque allora manda l'ospedale andate via andate via ok ok io ti volevo parlare di una cosa una cosa molto importante ma quindi te vuoi andartene via o vuoi stare con me? vuoi stare con te ah no va bene eh beh ovvio sì però ma 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 thing ma 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 sia come raggi stiamo una bambina un cane ma mi sa che amore di zia amore di zia che succede? ma va bene comunque è un po' troppo presto per avere una figlia no? no si ma sei tu che l'hai voluta ok ragazzi ora andiamo a dormire andiamo a dormire ragazzi mamma posso dormire con te? mamma posso dormire con te? ho paura che oggi l'ho sotto il letto no ma scusa c'è la culla c'è la culla vai vai buonanotte aspetta buonanotte ok 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 io intanto mi cambio stai un po' con te cacca cacca mamma cacca cacca ok fatto ok possiamo anche andare niente ti metto il pigiamino ok la cacca mamma la cacca oddio 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 il telemoto oh 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 oddio oddio forte oddio oddio il telemoto è vero oddio scappate scappate andiamo fuori oddio oddio perché non mi avete svegliato oddio oh ma la casa è chiusa mi avete svegliato è chiusa oddio oh è fa oddio sta temando fortissimo oddio 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 non lo so non lo so è qua è qua è qua è qua è qua oddio ma è cacca rosa oddio lo ho preso io lo ho preso io continua continua è cacca rosa siamo qua siamo qua siamo qua ma stanno cadendo di pezzi guardate è cacca rosa cadono dei pezzi mamma mia che casa ma basta dire è sta cacca rosa infatti siete zitti non va bene ok ragazzi ma dove siete dove siete sono qua sono qua sono qua sono qua sono qua con la bambina che cosa succede è c'è un piccolo torte moto oh io vado dentro a vedere non ce l'ho non andare dentro non andare dentro è stata arancia ok ragazzi intanto io mi vado a cambiare perché ok è vero io vado fuori ok intanto mi cambia perché anche se ci sta ancora essendo lo scorso ok tutto bene piccola stai bene sì voglio giocare e allora ti porto andiamo al parco sì andiamo al parco mamma ma sono in pigiama eh ma chi ti cambi oh ma ma vuoi scusa siete fuggiti senza di me eh sì eh cosa ti è andata a scambiare eh sì eh eh privacy eh ma te asia come stai bene magari bacca rosa magari se c'è un altro telemoto almeno ti spaventi scusa dai scherzo scherzo dai prendiamo la metro la metro 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 ok è la prima è la prima volta che prende la metro lei eh che cu eh sì sì ok ok ragazzi guarda io mi metto accanto qui metro 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 piccolina piccolina cosa vuoi fare nel frattempo tanto noi siamo molto lontani mi cambio io mi chiede genera disneyland tanto io ho le valigie sì sì andiamo ok andiamo ovviamente paga edo no no non pago io pago io pago io già avevo il viaggio prenotato sì ok ok e io un attimo vado in bagno va bene ok vai ok ragazzi e comunque sono è strano che ci sia stato un termine perché c'è stato un altro ieri quindi lasciate like se vi sta facendo questa nuova serie ok lasciate ok eccomi tornato è una cosa importante siamo arrivati penso non siamo arrivati non siamo arrivati non siamo arrivati mi rispetto mi rispetto ma siamo dove eravamo prima è perché non abbiamo già andato il posto è perché non siamo arrivati mamma mia massamento è più lenta di un non so cosa io devo parlare un attimo con Vane vieni Vane vieni Vane e mi ci caccio trenta nomi eh ecco vieni vieni comunque c'è già che sei che c'è è grandissimo nostra figlia eh cioè guarda è visto è bellissimo eh sì però vabbè siamo arrivati siamo arrivati ma di nuovo qui ma può essere mamma sì mamma io voglio battere un ragazzo no 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 dai no quando avrai no quando avrai 10 anni puoi ok ok ogni 2 anni quando avrai 10 anni potrai no 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 ok ragazzi finalmente anche se ma piccolina stai attenta che qui ok direi che per questo è tutto ragazzi io vado a casa vi lascio qui vi lascio qui addio mi lascio qui fate il schifo fate il schifo fate il schifo